Siamo alle pagine sportive, sono cominciati gli europei di calcio, nazionale azzurra in campo lunedì sera contro il Belgio, guidato da questo signore qua, da Romelu Lukaku, prossimo obiettivo della Juventus, intanto ieri l'esordio sofferto ma vittorioso della Francia, padrona di casa, Magia Paillette, solo alla fine la Francia va, questo per il calcio, ma il Corriere dello Sport di oggi ci parla anche della presentazione affollata di ieri di Ivan Zaitzev a Perugia, sarà il nuovo idolo dei tifosi della Sir, Perugia voglio vincere con te, dice il martello azzurro, nato in Umbria a Spoleto, suo padre russo era allenatore dell'allora Monini Spoleto, bagno di folla per Ivan, scelta di cuore di testa, dice qui iniziai, ho bellissimi ricordi e ovviamente i tifosi perugini sperano che vengano assolutamente rinverditi nella prossima stagione che attende Perugia nella corsa a Scudetto dopo la finale persa con Modena ma anche perché no in Europa torniamo al calcio, calcio Umbro con il Corriere dell'Umbria, Grifo e Joao Silva, l'idea giusta, il portoghese dell'Avellino è in scadenza, il Perugia può inserirsi nella corsa al 26enne con Vicenza e Latina, capitolo allenatore lunedì o martedì, Bucchi incontra la Maceratese che può sostituirlo con Giunti intanto Serse Cosmi dopo la delusione dei playoff persi col Pescara e il suo miracolo Trapani mi hanno commosso i tifosi e anche l'abbraccio di Oddo l'allenatore avversario che era stato anche un suo giocatore a Lecce ieri Rapace in redazione al Corriere, l'idolo del popolo, dopo il premio a votare il campione dice Perugia mi ama perché giocavo per il pubblico e Rieti conferma contatti avviati con la Ternana per il futuro delle Fere, intanto Breda viene presentato da Lentella e già ovviamente è un ex per la panchina rosso-verde, siamo a Gubbio, Sowè nel mirino del Gubbio, il gol da sogno per la Lega Pro il giocatore di proprietà del Chievo è inseguito da molti club, il DS Pannacci giovedì sera è stato visto a cena insieme al procuratore del Gambiano fino a tardi Città di Foligno, Ius è al lavoro per saldare le vecchie pendenze, il 13 giugno la presentazione, il 1 luglio la nuova gestione mentre Scarpadoro continuano i complimenti per Fagotti, attaccanti di seconda categoria, autore quest'anno di 33 gol che rivive la serata del Quasar, ma ieri erano in tanti a salutare lo Zarra, Perugia, Zaizev, Cara Sieri io voglio vincere bagno di folla al Quasar, pur di tornare a Perugia avrei accettato anche di giocare libero che, parafrasando nel calcio, vorrebbe dire quasi stare in porta intanto, a proposito di libero, un perugino che se ne va, è Giovi ufficiale a Verona, Sirci lo ringraziamo per quello che ci ha dato, Colaci o Rossini i possibili sostituti. Palla canestro, la Sicoma Val di Ceppoli, Paolo Pierotti, si gioca tutto per la B stasera alle 20 lo spareggio con Firenze, mentre Giugizu, Forza Andrea Calzoni, un K.O. per crescere lasciamo il Corriere dell'Umbria, andiamo alla Nazione, ancora Rebus Panchina a Perugia se ne riparla dopo il 20, dice il quotidiano fiorentino, martedì il divorzio di Bucchi, Santo Pare va in vacanza mercato a sondaggio per Gioao Silva, eccellenza gli obiettivi di un'angelana fatta in casa giovane legata alla città, dice il vicepresidente Feliziani, balno di folla per Zaiz, Perugia vinceremo insieme, dice lo spoletino, Sir presenta la sua stella, qui ho mosso i primi passi felicissimo di tornare dai Val di Ceppo in palio la B contro Firenze, mentre tennis, campionati Umbria a Colombella, i nastri, oltre 300 iscritti, lasciamo anche la Nazione, andiamo al Corriere Nazionale, Zaizev accoglienza da Re, voglio vincere per voi, presentata al quasi del grande corpo della Sircona, ad essere cercato da Perugia è stato un sogno, la scelta di tornare a ricevere, qui giocherei anche da Libero e Sir ci dice Perugia deve diventare capitale di pallavolo, mentre Colaccio Rossini, il patron sfoglia la Margherita per il prossimo libero, Perugino, a proposito di Perugia, Calcio, Barreto e Gilberto, Grifo Brasil, Del Prete vuole la A e Crotone, cessione vicina, assalto ai brasiliani, anche il Corriere Nazionale conferma, la maceratese potrebbe scegliere anche Giunti per i successori di Bucchi, Big Mac il talento è già un veterano, la Ternana e il patrimonio Meccariello, un giovane molto promettente, invece il Corriere Nazionale lancia un nuovo nome, sarebbe un ritorno per il Gubbio, vicino a Borghese, colpa a un passo da verificare le condizioni fisiche, Magi dice allenarlo sarebbe un sogno, pronto per il Rosso Blu, farò del mio meglio per essere io la scelta del Perugia per l'anno prossimo, dice il tecnico, ovviamente in maniera provocatoria vorrebbe dire un'altra vittoria con il Gubbio. Il nuovo città di Foligno si presenta lunedì, Bocchini potrebbe essere il prossimo allenatore, grande attesa per Jus e De Santis, volume intanto va al fondi. Città di Perugia, di tennis, Giulio Lici prova, scattano le qualifiche con l'Umbro subito in campo e poi a Spoleto che show la corsa panoramica. Chiudiamo con il messaggero, convolta il Parma fa un affare, Bisoli spinge il suo pupillo, il Lega Pro sposta gli equilibri come se la Juve prendesse Messi, attacco offerto Joe Silva, punta dell'Avellino, occhi puntati anche su capello del Cagliari. Internazionali di tennis, arriva la seconda edizione a Perugia, mentre Sir Conad, lo ZAR, si presenta, voglio vincere più di voi. E con il messaggero chiudiamo ancora con il caso del Foligno Calcio, la situazione che sembra dipanarsi sul futuro societario biancazzurro. Jus porta in dote 400 mila euro, De Santis sarà direttore generale, lunedì si presentano più pesante la situazione dei vecchi debiti e lì sarà il nodo da sciogliere per il futuro. Questo per quanto riguarda lo sport e questa rassegna stampa di sabato 11 di giugno, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo gli appuntamenti con l'informazione, intanto questa rassegna potrete rivederla sul nostro sito più tardi o in replica fino alle 11 su TRG, ascoltarla alle 8.30 su RGM, ma in giornata ovviamente il nostro sito trgmedia.it per gli aggiornamenti, stasera il rotocalco TRG7 con i servizi più importanti di questa settimana. rassegna e informazione che tornano lunedì prossimo, 13 giugno, dalle 7.30. La parte mia è tutto, grazie e buon fine settimana. Grazie.